Qualche anno fa studiavo ancora e mi ricordo che per ottenere qualcosa di materiale, come tutti i miei colleghi di studio, dovevo sperarne alla clemenza dei genitori per Natale, oppure stingere la cinghia e non spendere neanche un euro dei soldi guadagnati facendo qualche lavoretto qua e là. In questo contesto, gli amici che come me erano in fissa con YouTube cercavano ogni anno di ottenere una cosa sola, una GoPro. Questa piccola action cam sembrava la bacchetta magica per avere il futuro in tasca. Internet era pieno di foto e video fatti con la camera più amata dagli sportivi e proprio per quello il prodotto aveva fatto colpo anche su chi non amava gli sport estremi. Che tu fossi un amante delle camminate in montagna o un millennial alla moda che sfruttava il fisciari per fare foto alternative da mettere su Instagram, la GoPro sembrava lo strumento indispensabile per tutti i creativi. Io stesso nel 2018, per il mio viaggio in Giappone, mi ero preso una versione fallocca cinese e i risultati non sono stati un granché, le clip sono ancora inchiuse nel mio disc. Sì, volevo copiare Human Safari con scarsi risultati. Ora, a distanza di qualche anno, la GoPro è vittima di un declino che sembra inesorabile e a trattina restabile, sorpassata da videocamere più professionali o alternative fantasiosi come la Insta360, segnando la morte di queste action cam. GoPro è passata dal valere 10 miliardi al valere 200 milioni nel giro di pochi anni, un crollo del 98%. Come è possibile? Lo vediamo in questo video. GoPro, con il suo modello Hero, venne presentata al mondo nel 2007 e da subito impose sul mercato una nuova tipologia di camera, quella che tutti ad oggi chiamiamo action cam. Le GoPro, come detto, erano il tipo di camera perfetta per gli amanti degli sport. Erano piccole, leggere, avevano una buona batteria, c'erano un sacco di accessori per appuntarli sul casco, andare sott'acqua e chi più ne metta e soprattutto per l'epoca avevano una buona stabilizzazione. Senza contare i pochi erano piccolissime e si potevano mettere in tasca senza problemi. Questo pacchetto completo, che univa capacità tecniche alla usabilità della camera, ha reso da subito GoPro iconica. Tant'è che volgarmente da sempre si è iniziato a chiamare GoPro qualsiasi action cam. Sì, anche i modelli tarocchi, tra cui quello che vi ho citato nell'into. È quello che lo scrittore Seth Godin definirebbe l'effetto mucca viola. The purple cow. La situazione per cui, ad esempio, tutti gli idromassaggi vengono chiamati jacuzzi, anche se di marche diverse. I fazzoletti in scatola si chiamano sempre kleenex. O viene chiamato magnum qualsiasi tipo di gelato ricoperto di cioccolato con lo stecco che si può trovare in discount. Anche se con la magnum magari non ha niente a che fare. Il perché è semplice e lo si può spiegare appunto con le buche. Se siete abituati a vivere in città, quando andrete in vacanze in montagna, resterete stupiti della presenza delle mucche. Con quel muso simpatico è in grado di richiamare subito la pace e la calma dei paesaggi. Dopo qualche giorno, però, le darete per scontate. Sì, ok, magari non riuscirete a resistere alla tentazione di accarezzarle, ma comunque lo farete senza troppo stupore. Poteste restare stupiti, però, se per Pascoli spuntasse una mucca viola. Passerete ora ad interrogarvi sulla loro esistenza, se le abbiate mai viste su un libro di scuola o in qualche fotografia, e vi ruveranno l'attenzione per decine di minuti. La GoPro è stata una mucca viola. Così come lo sono state la Yacuzzi, i Kleenex, i Magnum e anche la Bic, di cui ho raccontato una storia interessante in questo ultimo video. Tutte aziende, per cui il nome dell'azienda che ha creato il prodotto, è diventato il nome generico adottato volgarmente da tutti per chiamare il prodotto stesso. L'unico problema delle mucche viola? Se iniziate a vedere ovunque e siete costretti ogni giorno a passare davanti a un pascolo di mucche viola, ecco che quella simpatica bestiola perderà la sua unicità, un concetto che ritroveremo nel corso del video per raccontare il collo di GoPro. Ma prima dobbiamo dare qualche dato. Il picco massimo, in termini di fama, popolarità e prospettive, per GoPro ha rivolto al 2014 e 2015, con la commercializzazione della famosissima Hero 4 e l'annuncio della Hero 5, che verrà poi lanciato nel 2016. YouTube, in questo periodo, era in vaso di recensioni ai video fatti con la GoPro. Il mercato era completamente esploso e i risultati si sono visti. Dal 2007, anno del lancio, al 2017, 10 anni dopo, GoPro è passata dal vendere qualche miliardo di telecamere a valere oltre 10 miliardi di dollari. Ancora oggi il valore più alto mai raggiunto dall'azienda. Una crescita clamorosa, un miliardo all'anno. Sicuramente la chiave dietro a questo successo è da attribuire all'archimede della GoPro, Nick Woodman, tuttora l'attuale CEO. Woodman è figlio di Dean, un banchiere importante nella Silicon Valley che lavora a stretto contatto anche con Pepsi come consulente. Il secondo manito della madre, invece, era conosciuto per essere uno dei più importanti finanziatori di startup della costa ovest. Woodman è cresciuto dunque in un contesto sociale in cui gli affari e le aziende giocavano un ruolo centrale. A questa predisposizione si sposa poi la grande passione di Nick, che amava il surf alla follia. Tanto da scegliere, oltre al fatto che se la potesse permettere, UCR&A, un'università non tanto per stare vicino ai suoi, ma per andare a surfare tra una lezione e l'altra. Una combo che gli ha permesso di conoscere molto bene il suo mercato di riferimento, di quello che poi diventerà il suo business. Queste informazioni sono fondamentali per capire cosa succederà da lì a qualche anno. Nick fonda, dopo l'università, Fanbug, un gioco online che trae investitori per 4 milioni di dollari, prima di collare a causa della bolla della dot com. Un'esperienza devastante che lo butta a terra e lo porta a staccare dal lavoro per un periodo. Durante il periodo sabbatico, in un viaggio in Australia, Nick porta con sé una piccola fotocamera legata al polso e a un'epifania. Vuole costruire dispositivi piccoli, maneggevoli, di qualità, per riprendere le sessioni di tutti gli amanti del surf come lui. Questo perché a cavallo tra gli anni 90 e gli inizi del 2000, solo i professionisti potevano permettersi delle foto di qualità. Ed erano fotografati dalla costa e da fotografi che spendevano centinaia di dollari per le loro ottiche. E questo mentre tutti gli altri amatori, che lo facevano per passione, potevano semplicemente sognarsi di avere delle foto così. E qui, grazie a 200.000 dollari prestati dal padre, nasce il GoPro, letteralmente, con un professional. Non perché chi la usava era un professionista, tutt'altro, ma professionisti, se non sulla tavola, almeno per quanto riguarda gli scatti che immortalavano i surfisti a domare le onde. Ok, scherzi a parte sulla sua estrazione borghese. In realtà, utilizzare finanze personali e prestate dal padre rappresenta ciò che poi è stata la chiave del successo di Woodman. Riuscire a fare tutto come una one-man band. Nick, infatti, rimase scottato dall'aver perso tutti i soldi che aveva raccolto dagli investitori con il suo precedente progetto e quindi puntò tutto su se stesso per evitare di essere schiacciato dallo stress e dalla pressione, il che gli fa sicuramente onore. E evidentemente, riteneva meno faticoso lavorare 20 ore al giorno, 7 su 7 per due anni di fila, prima di chiudere la beta di GoPro nel 2007. Il primo modello Woodman l'ha realizzato adattando un modello di fotocamera cinese ad un polsino e creando il primo case. Come abbiamo visto, in quel periodo il CEO dell'azienda faceva tutto. Era logistic manager, designer, direttore finanziario, insomma, tutto. Nonostante ciò, la realizzazione della sua prima camera non fermò la sua voglia di continuare a crescere e così continuò a migliorare in perterrito il prodotto. Nell'edizione successiva, implementò la camera digitale che registrava video di 10 secondi e poi migliorò di versione in versione. Nel mente andava in giro ovunque a cercare di piazzare il prodotto. In tv, ad esempio, andava a fare telemedite su QVC a mostrare la bontà della sua creatura, a quanto fosse sicura una volta che era lacciata al polsino, di come potesse filmare alla grande le sessioni di surf e così via. Immaginatevi Giorgio Mastrota che invece di Hemingflex vi vende una GoPro con il regalo di una batteria di pentole. È più o meno quella roba lì. Non so voi, ma forse io l'avrei comprata. Nick, da venditore, andò anche in giro per l'America nei negozi e nelle catene a convincere i rappresentanti che GoPro gli avrebbe portato notevoli vendite. Il tutto sfruttando il suo know-how davanti dagli sport esterni per enfatizzare ancora di più le qualità del suo prodotto. E alla fine, la svolta arriva. Prima quando Ray, un'azienda famosa per vendere articoli outdoor, iniziò a vendere GoPro. E poi quando lo fece addirittura Best Buy, uno degli e-commerce più grandi americani. E a quel punto l'azienda prese il volo. Mi raccomando, ora tenetevi forte. Nel 2012, Woodman vende l'8% della società dopo che il brand aveva ormai preso piede. Lo fece per circa 200 milioni di dollari. Il che, vi basta fare un semplice calcolo, portava l'azienda a valere circa 2 miliardi e mezzo. Pensate che tutto questo è partito da un prestito del padre di soli, si fa per dire, 200 mila dollari. Un bel modo di usare la paghetta. GoPro era diventata finalmente un'azienda in continua crescita, fino a raggiungere i picchi di cui parlavamo prima tra 2014 e 2015. Soprattutto grazie ai social e alla condivisione che ne fecero i primi content creator. Da lì in poi però, un netto calo. Siamo passati da 1.6 miliardi di fatturato a circa 900 milioni nel 2024. E il trend non sembra positivo, soprattutto se pensiamo all'anonimato in cui sembra essere caduto il brand. Cerchiamo di capire il perché di questa discesa vertiginosa. Sicuramente, il primo fattore del collo è l'inefficienza dell'azienda. Vista la rapidissima crescita del brand, tutti gli investitori avevano puntato fortissimo su GoPro con un atteggiamento che suggerisse, guarda a caso, come nessuno di loro se aspettasse una caduta così drastica e soprattutto rapida. Atteggiamento tipico di ogni storia di fallimento aziendale. Ancora una volta a rimancare come nessuno abbia la sfera di cristallo. Il bordo dirigenziale però ha investito con troppa imprecisione le risorse, iniziando ad assumere un sacco di professionisti strapagati, troppi rispetto all'effettiva possibilità di coinvolgerli nei processi produttivi. È stato un errore di pianificazione di cui le aziende giovani di solito soffrono. Credere che la propria crescita sia continua e esponenziale quando da un anno con l'altro si può andare sempre in contrasta di non preventivati o essere vittima di sbagliate oscillazioni che può avere il mercato di riferimento. Inutile dire che appena i guadagni calarono e il fatturato subì delle flessioni negative, Woodman, ancora Deus Ex Machina dell'azienda, dovette licenziare una marea di professionisti, frutto di quello che abbiamo detto, cioè assunti preventivamente perché il nostro Nick ormai si aspettava di avere il mondo in mano. Da fuori dunque era chiaro che il gruppo stesse attraversando un momento di instabilità e questo torse fiducia agli investitori che iniziavano a puntare meno su un cavallo che non sembrava più così tanto vincente, alimentando un circolo vizioso che si rivelò deleterio nel lungo periodo. Portò a un cordo del suo valore in borsa meno investimenti e meno risorse a cui fare fronte. Senza contare poi tutti gli investimenti a produrre milioni di pezzi che poi sono rimasti invenduti. Una perdita economica colossale. L'inefficienza, questa volta non lato finanziario ma lato prodotto è anche il secondo fattore che ha messo in difficoltà l'azienda negli ultimi anni. Così come ha faticato nel gestire al meglio l'investimento delle risorse il board dell'azienda ha preso anche numerosi abbagli soprattutto nell'immettere sul mercato nuove creazioni che secondo loro avevano la capacità di differenziare il mercato ma che si sono rivelato un falimento. Per la maggior parte di voi infatti GoPro è semplicemente un marchio che produce action cam e nonostante ne varmassi una qualche anno fa anche per me è assolutamente questo. Prima di scoprire la storia che vi sto per raccontare. Il brand a differenza di ciò che pensa il grande pubblico ha invece investito moltissimo dopo il boom nel creare dei prodotti diversi sia per diventare una media company realizzando serie tv e film sia con prodotti complementari che si sono rivelati e sbagliati. GoPro consapevole della sua unicità ha da sempre creato contenuti originali per farvi sognare le mirabolanti avventure che avreste potuto vivere acquistando uno di questi. Probabilmente è il modo in cui anche noi le abbiamo scoperte attraverso video suggestivi di Safari su YouTube o riposte su Instagram di qualche acrobazia spezzacollo di un qualche rider di BMX. C'è un però comprare una videocamera non vi permette automaticamente di fare il paracadutismo o di fare snowboard su una pista nera anche se siete all'inizio. Sì, è vero questo tipo di storytelling fa parte di una strategia di marketing precisa. Il problema è che GoPro non ha saputo trovare un'idea vincente per cambiare questa strategia quando stava iniziando a diventare anacronistica. L'azienda infatti è andata all in in questa direzione e cioè cercare di paragonare gli amatori ai professionisti mettendogli gola con acrobazie mirabolanti e montaggi da paura quando in realtà la maggior parte dei filmati era così. Incredibilmente noioso. Video che ovviamente nessuno si sarebbe mai visto e questo è un altro problema e cioè che chi faceva video con questa cosina poi i video erano talmente brutti o non erano all'altezza di quello che si aspettavano e quindi non riguardavano i video e se uno non riguarda i propri video o non trova motivo di condividerli vuol dire che questa qui smette di usarla. Oltretutto GoPro arrivata all'apice ha ingaggiato alcuni dei massimi dirigenti di Ulo e HBO per creare serie tv e dei contenuti ad episodi che ovviamente ci sono rivelate una catastrofe tutti filmati con la GoPro stessa e tutto questo ha portato l'ennesimo spreco di denaro e di tempo senza senso perché i primi video virali di GoPro godevano della semplicità e della spontaneità che faceva pensare i loro utenti cavolo anche io sono fortissimo sullo snow mi basterà comprare questa videocamera per fare il video così era una fanbase di personali analiniche dinamiche amanti del brivido gente che non era interessata a guardare l'ennesima serie tv o programmare episodi stile D-Max anzi gente che la tv non se la guardava proprio un altro sforzo inutile fu la creazione dei droni ok differenziare il business ha senso ma questo tipo di prodotto filmato a GoPro non riusciva a tenere minimamente testa rispetto ai competitor i droni avevano una pessima durata a livello di batteria erano molto pesanti e spesso precipitavano a metà sessione di volo causando oltre che un grande pericolo per le persone a terra anche la perdita di un sacco di soldi in un battibaleno non solo la loro idea era far volare il drone attaccandoci sotto una GoPro quindi il rischio di perdere tutto era doppio insomma quando GoPro faceva qualcosa di nuovo finiva sempre con vendere prodotti non all'altezza investendo molto di più di quello che avrebbe dovuto se questo approccio aveva premiato in fase di avvio quando Nick Woodman appunto a tutta la sua vita su quella camera per un'azienda che muoveva così tanto capitale era un continuo e inutile azzardo infine è proprio la qualità dei suoi prodotti di punta le videocamere a non aver permesso al nostro Nick di rimanere sulla cassa dell'onda ancora per un po' GoPro essendo piccolo e portatile ha fatto in qualche modo concorrenza agli smartphone e di primo occhitto riusciva a dominare a causa di una qualità dell'immagine superiore ricordatevi che parliamo della prima epoca degli iPhone dei primi smartphone quindi ci sta e soprattutto era più flessibile perché si adattava a qualsiasi situazione con il passare degli anni però iPhone prima e poi tutti gli altri brand di telefonia hanno iniziato a produrre dispositivi sempre più funzionali lato foto e video e pian piano è diventato sempre più comodo per tutti usare il telefono per qualsiasi tipo di ripresa o di video e quindi portarsi dietro anche un'altra camera la cui qualità era la stessa non aveva senso anzi paradossalmente l'avvento di smartphone più potenti ha rivalutato reflex e mirrorless e in generale fotocamere e videocamere professionali gli appassionati di foto e video infatti hanno iniziato a ragionare così se ho bisogno di contenuti veloci mi accontento dell'iPhone altrimenti mi porto una bella camera e faccio delle riprese come si deve all'interno di questo mercato diviso in due GoPro si posiziona nel mezzo e l'unico vantaggio diventa usarla proprio come action cam ma come abbiamo visto il mercato è troppo piccolo e il trend è passato di moda per carità un mercato valido e profittevole ma ben distante dal permetterle anche solo di sognare un ritorno a 10 miliardi di valori di qualche anno fa senza contare che oggi troviamo camera che offrono le stesse performance e hanno la stessa flessibilità di utilizzo e a volte ha un prezzo minore o con più funzionalità e modalità di ripresa il che permette di stimolare la creatività di chi la usa forse il problema sta proprio qui Nick Woodman è stato a suo modo geniale inventando un prodotto innovativo e unico nel suo genere ma ha avuto difficoltà a dare una struttura solida alla sua azienda non è riuscito a stare al passo con le nuove tecnologie e soprattutto non è stato in grado di gestire la concorrenza perché nei primi anni la concorrenza non l'ha mai avuta e questa inesperienza è costata carissima e voi usate ancora GoPro? pensate che possano tornare di moda? sicuramente morte tra qualche anno spariranno fatemelo sapere nei commenti così facciamo due chiacchiere e approfondiamo il tema io sono Andres Chedramini e se ti piacciono altre storie come questa clicca il tasto iscriviti se invece già mi conosci metti un like non vorrei che questo video precipitasse come un drone di GoPro